Una breve pausa estiva di un paio di settimane prima di tornare a giocare nel campionato di A2 di softball. La squadra delle nuove Pantere Lucca ha affrontato l'orgosolo su Pramonte in un doppio incontro svoltosi sul Diamante di Carraia. Gara 1 ha visto esaltarsi soprattutto Mara Papucci in petana, in una partita peraltro equilibrata fino al terzo inning. Poi i due punti conquistati, grazie alle valide di Caterina Meoni e della stessa Papucci, ma non tardava la risposta delle mazze sarde, complice a un errore della difesa che fissava il parziale sul momentaneo 2-1. Ma dal terzo inning in poi la musica cambiava, con le nuove Pantere che a suon di valide si aggiudicavano il match per manifesta superiorità al quinto inning, col punteggio di 8-1. In gara 2 cambiava tutto, complice il fatto che ai fini della classifica vincere anche la seconda non avrebbe cambiato le carte in tavola, Peppe Cardetta ha preferito far giocare tutte le ragazze del roster. I primi quattro inning, con Mary Fabbrini in pedana, vedevano ancora il dominio lucchese, col vantaggio eloquente di 11-5. Poi il tecnico dava spazio ad altre giocatrici, alcune delle quali anche alla prima esperienza in A2, quale Smeralda Crusa e Fatima Elajai, attrici di due bellissime valide. Ciò consentiva la rimonta delle ospite, che alla fine si imponevano 13-11 con un parziale di 8-0. Il batti e corri tornerà domenica prossima anche nel settore maschile. Nel campionato di Serie C, Lucca giocherà una partita decisiva sul campo dei Cosmos di San Casciano-Valdipesa. In palio ci sono i play-off, che sarebbero un grandissimo risultato.